Di Eugenio Montale, Gli animali Gli animali di specie più rara, prossima a estinguersi, destano costernazione in chi sospetta che il loro padre ne abbia perduto lo stampino. Non è che tutti siano stati vittime degli uomini e dei climi o di un artefice divino. Chi li ha creati li ha creduti inutili al più infelice dei suoi prodotti, noi.